Le scorte che abbiamo ci permettono di andare avanti per circa un mese e mezzo, dopo di che deve continuare ad esserci materia che entra, perché altrimenti dovremo cominciare a diminuire il numero di capi presenti in staglia. Questo il grido d'allarme di uno dei 2683 allevatori di bestiame padovani. Simone Baggio alleva Angus Irlandese a Villa del Conte, nell'Alta Padovana, dove lavorano il 60% degli allevatori. Il quadro è drammatico. Fino a tre settimane fa, la metà del fabbisogno di mais, frumento, semola e crusca, che servono per preparare i mangimi, proveniva regolarmente sia dall'Ucraina che dall'Ungheria. Ora questo flusso si è interrotto. Da qualche giorno, ha sottolineato la CIA di Padova in una nota, si sono bloccati anche gli approvvigionamenti dalla Serbia. Chiediamo solamente di avere un aiuto, soprattutto con i paesi che appartengono alla comunità europea, come l'Ungheria, che sblocchi il blocco, che continui il flusso di merce in arrivo. Questo è il punto uno per l'immediato. Le materie prime sono poche e il loro prezzo è aumentato anche del 60%. Il mais, ad esempio, al quintale è passato da 28 euro dello scorso anno, agli attuali 45, confermano i rappresentanti di categoria. Costi che inevitabilmente peseranno anche nelle tasche dei consumatori. Qua c'è stato un aumento, diciamo, da un giorno all'altro di un 30-40%. E quindi sicuramente la produzione che verrà nel mese di aprile o maggio sicuramente dovrà essere aumentata. Ma non solamente quella della carne, poi c'è anche il latte, poi ci sono tutti i prodotti agricoli che si trovano normalmente nei supermercati o nelle macellerie.